Vai, io ti chiedo che il prossimo film voglio essere con te vicino, un pezzettino così, così però vicino e io ti chiedo una cosa, prossima partita di calcetto ma ci sta vicino a te ma così 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 Io fanno su scherzi a parte Vai 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 questo è bello Abusivo, fermati fermati, abusivo Grazie